Oggi, me la chiedete sempre in parecchi queste classi, porto un'altra classe delle imprese eroiche ed è il campione, scusate la pronuncia perché non ho idea come si pronunci, di Winner Whiff Questa classe di prestigio, come sempre, facendo parte delle imprese eroiche, è molto molto forte perché è contrapposta al male assoluto, alle fosche tenebre, diciamo, a un po' differente di potere Lo dico sempre perché, come andrò a spiegarla, è fuori da tutti gli schemi delle classiche classi Quindi andiamo a capire cos'è Intanto questo patrono, chiamerò patrono perché non ho ripetuto quel nome stranissimo E' praticamente un'Eladrin, quindi un'entità fatata Che dona le capacità a questo campione, questi campioni E potenzia tantissimo, ovviamente, tutte, ripeto, tutte le capacità sia di incantesimi che di combattimento La classe in sé è una fusione, a mio avviso, bella riuscita perché ci voleva poco in realtà Fra barbaro e paradino, cosa che normalmente è impossibile E qui invece funziona benissimo Andiamo a vedere che cosa è in realtà questa classe I requisiti sono minimali Essenzialmente vuole solo un allineamento caotico buono Questo è molto correlato al concetto di allineamento Diciamo, questi fatati hanno allineamenti fissi Come i demoni, i diavoli, i celestiali C'hanno le loro categorie Quindi caotico buono deve rispecchiare esattamente il pensiero del tuo patrono Bonus di attacco base più 6 minimo Intimidire 9 gradi, quindi al massimo, diciamo, a quel livello Se vuoi farlo subito, appena possibile E due talenti, cavoliere delle stelle e giusta ira Cavoliere delle stelle è un talento che proprio ti dà un legame con questa entità Dà dei bonus molto ultra via Queste leggeri in realtà, è utile E giusta ira Capace che quando entri in ira Fai, mi sembra, danni santificati C'è sempre correlato al bene Le statistiche basi ovviamente sono sopra le righe Perché come tutte le classi delle imprese eroe che devono fare Veramente imprese incredibili Quindi sono più potenti Nelle normali classi di prestigio C'ha attacco base pieno Tri salvezza buono su tempra Ma prende 4 più intelligenza e le abilità Oltre che avere il dad da 12 Di punti ferita Questo si interfaccia al fatto che prende incantesimi È praticamente un continuare o migliorarsi tantissimo Non a livelli morti Anzi, non solo a livelli morti Ma a livelli che prende capacità poco utili E si può dire anche capacità non di combattimento Prende solo capacità di combattimento Quindi è solamente per quello Come era chiaro anche dal concept Allora, intanto prende gli incantesimi Gli incantesimi c'è da dire Sono ovviamente fino al quarto livello Sono più di utilità Di effetti che li aiutano Ma capite che per un combattente Castarsi anche dei buff Oltre che sei già così potente C'hai Una cosa esponenziale C'è devastante Poi sono gli incantesimi anche buoni Quindi è veramente forte Ma ritornerà tutto nel grande discorso Che farò su questa classe E i incantesimi vanno con la saggezza Quindi è una cosa molto classica Come ranger, archerici Tutti quelli che hanno un'entità Che venerano Al primo livello In relazione del male Come quella del paradino L'ira Quindi prende E aumenta diciamo la capacità di ira E il pugno del male una volta al giorno Cominciamo già a mischiare Paradino e barbaro Essenzialmente quindi Se prima aveva anche livelli paradino Questi puniti aumentano Se aveva prima livelli da barbaro Aumentano il numero di ire Quindi Non finisce le risorse Diciamo è fatta la sua Su questo C'è tanto combattimento Fa solo quello Lo mandi là E uccide tutto quello che c'è Ferma Distrugge Però è buono Funziona molto bene Sull'impresi Adore che le fosche tene Avrà tutto questo concept Proprio va messo In quel concetto Se no Il tutto non funzionerebbe Come già avrei anticipato Al secondo livello La grazia divina La classica Capacità di paradino Che mette Aits Carisma E incantare e furioso Può castare Solo i suoi incantesimi Di questa classe Anche quando è nera Cosa che Può essere utile Può essere inutile Intanto ce l'ha Ce l'ha Al terzo Cominciamo con le cose Sode Reduzione del danno Due tutto Quindi lui in combattimento Comincia a prendere sempre Meno danni Resistere agli Ammaiamenti Questa è la capacità Che prende anche Quando vai in nera C'ha dei bonus Contro gli ammaiamenti La classe stessa Gli dà bonus aggiuntivi Mi sembra che prende Un periodo di salvezza Contro gli effetti Di ammaiamento Estremamente utile Perché se entrano In ammaiamento In un barbaro del genere Può essere Fastidioso Per i propri alleati Quindi è sempre utile Proteggere la mente Al quarto Furia temibile Capacità che si trova Anche in altre classi Qui a Zerker Di barbari Quando entra in nera Fa una prova Di intimidire Tutti i nemici Entrano Mi sembra 9 metri La cd La prova di intimidire Quindi una cd Può essere impossibile O anche abbastanza facile Va con tiro del dado Però veramente Proprio in fondo Una cd Impossibile E niente Tutti quelli che la falliscono Sono scossi Per un d4 Più in un round O fino a che Un termina di era Di solito è La termina di era Perché va Sicuramente Una costruzione altissima Qual è il fatto Scosso è Qualcosa di Molto Molto forte Perché da meno 2 A tutti i ts Tutte le abilità E tutti i tiri per colpire Quindi Ripeti Ts Va in combinazione Con gli altri nemici del gruppo Dove magari In questo gioco Un meno 2 al tiro per colpire Fa un po' ridere Un meno 2 al ts Comincia a essere Sostanziale Anche quel meno Di abilità Non sa mai Potrebbe tornare utile Sommato A altre penalità In certi Come sempre In certi frangenti Comunque sia Loro ha un paura Ho un po' da delù Quindi Torna sempre utile Al quinto Resistenza Energia 5 Qui comincia A essere Più simile A suoi patroni Che Tutti queste Entità Nelle resistenze Fisse Infatti Lui prende Resistenza 5 Acido Freddo E elettricità Che male Non fa E sempre D'anni in meno Che prende Ogni round I suoi nemici Ha un pool Di punti ferita Spaventoso Quindi capite Che la resistenza È ovviamente Il suo punto forte Come l'output Li danno in mischia Il punti del male Due volte al giorno Come dicevo Al sesto Reduzione del danno 3 tutto Comincio a mente Da questa reduzione del danno E non era sottovalutare Specialmente contro Mostri molto potenti Che fanno tanti attacchi Insomma Le degli attacchi Le round Sempre quel meno Al fine Fa uscire fuori Resiste L'attacco in più L'attacchi in più Non era sottovalutare Al settimo Immunità Lo sham E la compulsione Quindi ammone Praticamente Tutta la scuola Ammaliamento Quasi Semplicemente Che ci può stare Sono 10 livelli E è sempre Quelle classi Come ho detto Molto molto forti Semplicità peggiori All'ottavo Reduzione del danno 4 Al nono Oppure nel male Tre volte al giorno E al 10 Non c'è nessuna Capacità eccezionale Solo Reduzione del danno 5 Resistenza di energia 10 Dei tre elementi Che ho già citato Quel solo Era un po' ironico Diciamo che diventa Un baluardo La classe è questa Che dire C'è Mi potrei soffermare Un po' Sugli incantesimi Che sono Se contro il male Al quarto Prende anche qui Spara sacra Che è l'incantesimo Più potente Contro il male Che da doppi danni Una cosa assurda 3.5 Mi sembra Che un po' L'avevano sistemato Ma tanto Era comunque Il Cantesimo più potente Contro il male C'è da fare Tutti effetti Vedo di Protezione Cura E aiuto Come avevo detto Quindi Tutte cose Che sono estremamente utili La classe In sé Funzione Nel contesto È Caratterizzata Perché Come ho detto È tutto In questo ambito Bisogna Argersi Le foschette Nel bene Per se E si fanno Bellissime avventure Perché Pensate a bene Se la tiri fuori È sbagliata Quindi Non va tirata fuori Da questo contesto Perché le grandi Restrizioni del bene In questo manuale Sono insite C'è Chi gioca a questo tipo Di personaggi Praticamente Può fare quasi niente Sono quasi dei santi Oltre che c'è anche Tipo del santo Vabbè Quella è un'altra cosa Però È uno di quelle classiche Con grandissimi Punti deboli C'è Non ha attacchi a distanza Non li può avere Tra virgolette Non ha capacità È solamente Una macchina Per la mischia È estremamente resistente Cioè Incantesimi Come ho detto Aiutano Se stesso Poco effetto Effettivo C'è È Il testa bassa È colui che Un frigidagno Colpisce Se ha un avversario Un po' Astuto Lui Praticamente Subito Fa il combattimento A meno che Non gli vengono Andate Capacità per raggiungerlo Come classe A me non piace Per il semplice Fatto che è Proprio Per chi Va da Tutti gli attacchi Spara tutto Fa 100 200 danni Uno Due round Anche più Dipende dal livello Ovviamente E' Praticamente Colui che Spezza Il male Che dà il colpo Di grazia Ma ci deve arrivare Ci deve arrivare C'è la possibilità E' qualcuno Che ovviamente Non è facile Da abbattere Quindi Torna utile Per fare Particoli Manovri Di combattimento C'è il punto saldo Dove tutti Van vicino Perché protegge Diciamo che Grandi vantaggi Grandissimi Svantaggi Quindi Che dire Io come Tutte le classi Di questo manuale Perché Sono tutte Sopra righe Dopo si potrebbe fare Chi è anche più Chi è anche meno A consiglio Ovviamente Sempre rispettando Questi dogmi C'è Tutto quello Che ti insegna Il preseroe Che contrappostra Fosche tenere Come ripeto Come sempre Sono personaggi Che vanno incontro A un male vero Combattono sempre In situazioni Disperate C'è capite Non è il classico Personaggio Che si scontra Con quattro goblin Sono un potere Anche Per essere più crudo Più forte E possono Vincere sfide Che i normali personaggi Non vincerebbero mai Perché loro Sono intesi In quel modo Vanno forzati Vanno spinti Se no perdono Di ragione Se no solamente Un tritare Verdi sfida Più forti Di quelli Che sono loro Molto bene Penso che Non ci sia altro Da dire La Consiglio Come già ho detto A chi piace Il classico Picchiatore Semplice Veloce Puro Senza tanti fronzoli Vi ringrazio Per avermi seguito Fino a qui Fatemi sapere la vostra Ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti